Ben ritrovati, buon Oedì e buon Crypto Monday. Questo oggi sarà un video molto volatile e questa è una parola importante perché in molti hanno conosciuto la parola volatilità solo verso l'alto e adesso impareremo che volatilità vuol dire verso l'alto e verso il basso. Infatti questa è una delle caratteristiche più importanti di questo mercato, mercato comunque ancora in price discovery, ossia continuamente gli asset che ne fanno parte a partire da BTC stanno scoprendo qual è il loro valore con un controvalore, un prezzo che a suo modo non ha ancora una idea chiara perché anche il dollaro non è stabile come si pensa e questo è il discorso forse più importante di tutti. Anche perché siamo in un periodo storico molto difficile, molto difficile da inquadrare e probabilmente molto rischioso da tutti i punti di vista. Quindi cerchiamo di metterci in questo contesto più allargato, è un'opera che cerco di fare sempre, questo video non sarà semplice, cercherò di tenerlo il più contenuto possibile perché ci sarebbe da parlare tanto, magari approfondiremo nelle live che arriveranno questa settimana perché già vi preannuncio che ci sarà la live del mercoledì alle 18.30 dove poter fare degli approfondimenti sul canale Coinsquare, con me e Filippo analizzeremo più in dettaglio il tutto e poi venerdì una live dedicata a Metaswap con un Ask Me Anything quindi andremo a rispondere a tutte le domande dedicate a quello. Ho anticipato questo perché? Perché così avrò modo anche di approfondire. Andando invece nel dettaglio Coin360.com ci fa vedere di nuovo un rosso molto molto intenso rispetto a 7 giorni fa, meno 18.45%. Questa è una delle settimane peggiori di questo ciclo di mercato. Ciclo che viene scandito praticamente da ogni halving di mezzamento delle reward su Bitcoin stesso. Quindi l'ultimo halving è arrivato nel 2020, vedremo anche quello che sta succedendo rispetto a quel periodo, periodo molto importante perché è anche il periodo in cui abbiamo visto arrivare la pandemia. E tutto il resto sta facendo ancora peggio, a partire da Ether con un meno 32%, che è uno degli asset che ha perso di più rispetto a quelli più capitalizzati, quindi top 10 o top 100. E infatti 1226 dollari in questo momento è un prezzo davvero basso se comparato con quello a cui eravamo abituati soprattutto nell'ultimo periodo. Detto ciò andiamo a vedere CoinMarketCap con una capitalizzazione totale che sta trovando praticamente il suo bottom relativo di questo ultimo periodo a 1000 miliardi di dollari, quindi 1 trillion in questo momento quasi esatto e sembrerebbe essere disposto per andare sotto. Questo era un dato storico quando è stata superata la capitalizzazione di mercato di 1 trillion a due, di 1000 miliardi di dollari o un bilione all'italiana. Ovviamente è stato un segnale molto molto forte per tutto il mondo. La volatilità di questo settore lo sta riportando su questo livello. Vediamo se testerà questa capitalizzazione o andremo sotto. La dominance di Bitcoin sta aumentando, quella di Ethereum invece sta diminuendo. Questo è uno dei dati più importanti da analizzare questa settimana qui. Quindi BTC che capitalizza quasi la metà di tutto il mercato, 47.2% ed Ether il 15.6% quando a lungo invece erano stati praticamente a 40% BTC ed Ether 20%. Sta aumentando anche il GW perché le operazioni stanno aumentando su tutto il settore vista la mattinata molto turbolenta. Ho iniziato a fare la mia analisi questo lunedì con BTC sopra i 25 mila dollari e aveva già ritestato e nottata questo livello, adesso lo andiamo a vedere, mentre invece in questo momento sta continuando a scendere. I motivi sono tanti e principalmente però ce ne sono due e dobbiamo focalizzarci su quelli. Andiamo prima sull'analisi tecnica, quindi BTC USD su Coinbase. Questo è un grafico settimanale, ci fa vedere praticamente l'andamento di ogni settimana rappresentata da una candela. Avevamo visto le nove candele rosse consecutive interrotte dalla settimana scorsa con una candela verde. In questo momento è ripartita una candela rossa molto prepotente, quella della settimana passata, e in questo momento anche la candela attuale è rossa. Voglio far vedere questo grafico perché innanzitutto un downtrend di questo tipo è un inedito, lo avevamo già detto, nove settimane di fila non si erano mai viste, ma in più è molto importante vedere il livello macro perché questa media mobile, che è la media mobile semplice sul settimanale, potrebbe essere veramente uno degli ultimi supporti a questo prezzo, ossia circa 22.400 dollari. Cominciamoci a preparare a questi livelli di prezzo e poi ovviamente il supporto massimo, che è stato il turning point, il prezzo con cui si è praticamente superata la fase dello scorso ciclo, che è stato l'all time high, 20.000 dollari, quella cifra anche psicologica molto tonda, ovviamente una volta superato in questa nuova fase è diventato adesso il supporto massimo. E qui sono i due livelli su cui Bitcoin potrebbe far vedere il suo bottom a questo punto, livelli ovviamente da osservare con molta attenzione, non sappiamo se si fermerà lì, sarebbe molto importante, lo facesse. Non è detto neanche che ci arrivi, per carità, però se dovessimo osservare dei livelli sono questi, più che guardare ovviamente al giornaliero. In questo momento sia analisi tecnica che analisi on-chain hanno perso il loro senso, perché è un continuo susseguirsi di notizie negative o comunque FAD, paura, incertezza e dubbio, che arriva da tutti i lati. I 25.000 sembravano aver retto durante la notte, mentre invece sono stati bucati da questa candela in questo momento, quindi veramente il prossimo livello è quello di quella media lì, che abbiamo visto sul settimanale con la media mobile, oppure quello dei 20.000 dollari direttamente. Nonostante tutto, on-chain non ci sono segnali di depositi consistenti sugli exchange, infatti non è questo il problema, non è un reversal da questo punto di vista, anzi, in molti sono preoccupati di come si stanno comportando le diverse strutture centralizzate, gli holders di lunga data stanno continuando a tenere il loro BTC, questo è un cambiamento, se visto macro, molto molto importante, perché negli scorsi cicli comunque si faceva molto più trading su BTC, adesso la maggior parte dei Bitcoin vengono holdati e quelli che vengono venduti sono una minima parte. Sui exchange ce ne sono in questo momento il 13% di tutto il circolante, è un numero molto molto basso, quindi questo è un fenomeno che si vede un po' più sul lungo termine, sul lungo termine è evidente di come Bitcoin stia acquisendo consapevolezza da parte di chi ne acquista e ne acquista per il lungo periodo, però ovviamente queste fasi di alta volatilità vengono comunque date da movimenti molto bruschi e poca liquidità sul mercato, perché attenzione, avere poca liquidità porta cambiamenti molto bruschi, il classico supply shock può avvenire verso l'alto con prezzi che salgono molto velocemente, ma anche verso il basso perché se la liquidità è molto bassa bastano pochi volumi per portare cambiamento di prezzo molto elevato e questa è la caratteristica principale di questo mercato, appunto la volatilità. Quando si dice che è un mercato volatile, quando si dice che è un mercato rischioso, ci si riferisce proprio a queste cose, quindi adesso non c'è da stupirsi. Ci è piaciuto parecchio quando in pochissimo tempo, perché parliamo di solamente l'arco di 1-2 anni, Bitcoin è passato da 10.000 dollari a 30, 40, 60.000, adesso al contrario non dovremmo stupirci se da 67.000 si passa a 20.000, perché la volatilità avviene verso un lato o verso l'altro. Però se dovessimo poi andare a fare il classico zoom out, che oggi poi sono andato a saltare nelle diverse finestre temporali, ma a questo punto lo vediamo direttamente da qui, la visione e il percorso logaritmico dell'asset ci fa vedere un continuo apprezzamento nei confronti del dollaro. Dollaro che è la chiave di lettura più importante in questo momento, mentre invece il ribasso che stiamo vedendo sul breve termine, in questo momento qui, questo ribasso a 24.400, è dovuto a un altro effetto di cui andremo a vedere adesso in analisi fondamentale. Prima ancora però andiamo a vedere qual è lo stato del sentiment. Il sentiment di mercato tramite Crypto Fear and Greed Index ci fa vedere ancora una volta estrema paura. Estrema paura a livello 11, secondo me siamo pronti anche a vedere nella giornata di domani un livello più basso, probabilmente potremmo ritestare i 9 o addirittura i 8, 8 visti praticamente durante la fase dell'arrivo della pandemia, uno dei punti più bassi toccati nell'ultimo periodo. Come detto spesso, questo indicatore ci fa capire di come il mercato stia reagendo, soprattutto al prezzo, e di come bisogna un attimo distaccarsi da questa paura o dall'entusiasmo che c'è. Nella fase di entusiasmo massimo che abbiamo visto l'anno scorso, evidentemente, col senno del poi, questo indicatore ci segnalava un'euforia eccessiva e non era quello il momento di accumulare, adesso sembra ovvio. Allo stesso tempo, chissà se in questo momento ci sta segnalando una paura estrema e quindi magari non è il momento di dar via tutto. Io, come sapete, sono un fautore dei pianeti accumulo a lungo termine e dell'holding in generale, quindi molto pericoloso fare trading in questo settore, si rischia veramente tanto, soprattutto, continuo a citare appunto, Sisi che ci dice se non eravamo dei trader prima di approcciare questo settore, non è il momento di diventarlo ora, perché è un settore molto molto difficile, l'analisi tecnica da sola non basta, è evidente, e bisogna unire tanti tanti aspetti. Ad esempio, aspetti di natura fondamentale, come l'hash rate, se guardiamo questo fattore da solo, il tutto sembra molto molto strano, perché qui è praticamente dove si basa il fondamento vero della rete, ossia l'hash rate e il suo innalzamento equivalgono poi a un continuo innalzamento anche nella difficoltà del mining. L'hash rate in particolare ci fa vedere quanto i miners stanno investendo nel settore, quanto stanno aumentando la loro potenza di calcolo, e proprio in questa giornata è stato toccato l'all time high, infatti se andiamo proprio a mettere sull'all time, l'hash rate non è mai stato così alto. Ecco, questo dovrebbe far riflettere, soprattutto in ottica di lungo termine, perché in un momento in cui c'è un altissimo dump di mercato, un ribasso molto molto importante, stiamo vedendo un hash rate mai visto prima, quindi una potenza di calcolo ai suoi massimi. A questo punto ci sarebbe da domandarsi perché i miners stanno continuando a spingere, tra virgolette, evidentemente hanno una visione diversa da quello che il prezzo sta facendo vedere in questo momento qui. Però questo potrebbe anche voler dire una grande scommessa del settore verso il futuro, e qui dobbiamo avere una nostra idea forte e capire quello che sta succedendo a livello macro. Per quello che Bitcoin va per forza inserito in un livello macro, non si può solamente guardare al suo grafico per capire qual è il suo andamento. Se dovessimo andare ad analizzare i top asset secondo la capitalizzazione di mercato, al primo posto vedremmo l'oro, questi sono gli asset che capitalizzano di più nel mondo, e solamente poche ore fa, non qualche giorno fa, ma poche ore fa, Bitcoin era alla decima posizione, quindi nella top 10 degli asset più capitalizzati. La sua volatilità e questo suo ribasso di lunedì mattina del 13 giugno 2022 ha portato l'asset a perdere due posizioni, scalare 10 miliardi in poche ore e scendere sotto Tencent e Meta. Comunque sia, stiamo parlando di uno degli asset ormai più importanti al mondo. E ricordo ancora una volta, volatilità vuol dire questo, salire molto velocemente e scendere molto velocemente. Molte persone purtroppo si sono affacciate in un periodo di up only, cioè nel 2021, e avviene sempre così quando ci sono fasi di euforia, adesso devono conoscere quello che vuol dire la volatilità nel verso contrario. È la chiusura settimanale più bassa dal dicembre 2020. Vediamo 5 cose importanti da conoscere per questa settimana e andiamo a capire che cosa sta succedendo. Non è mio solito interrompere il video con una sorta di inserzione pubblicitaria, però in questo caso è il momento di parlare anche di questo, anche perché con Coinsquare stiamo seguendo diversi aspetti, tra cui proprio l'assistenza da tutti i punti di vista, tecnico, consulenziale, fiscale. E in questo momento la cosa più importante è quella di avere un focus sulla formazione. Per quello abbiamo lanciato la Coinschool, che per circa 6 mesi a questo punto ha avviato la sua fase advanced, ma in questo momento c'è bisogno di mettere le basi. Abbiamo inserito anche la Coinschool Basic, Coinschool Basic con cui si possono imparare proprio i fondamenti per poter essere protetti davvero in questo settore. Senza queste basi qui si perdono soldi e basta. Quindi è il momento per farci davvero un'idea, l'investimento principale dovrebbe partire proprio da qui. Il nostro docente che è tra i più preparati del settore è Luigi Travaglini, lo potete trovare anche tra i streamers di Coinsquare TV, seguirà appunto diverse lezioni tra teoria e pratica, proprio parlando anche di piani di accumulo costante e gestione di wallet, partendo con la prima sezione che parte proprio lunedì prossimo 20 giugno. Quindi questa è l'ultima settimana per potersi iscrivere a un prezzo di lancio, che è quello con lo sconto al 50%. La prossima sessione sarà a settembre, avrà, se prenotata in questo momento, lo stesso prezzo, e le lezioni avverranno in live streaming. Ripeto, questo è davvero il momento per poter approfondire e potersi fare le basi, perché altrimenti ci si fa davvero male in questo settore. Ed è il motivo principale per cui molti perdono soldi in un settore che in realtà da quando è nato sale e basta. Qualcuno potrebbe dire, ma come oggi siamo a ribasso? Beh, quella visione è portata proprio dal fatto che non si conoscono le basi di questo settore qui. Quindi, Coinschool Basic, in questo momento, mi sento davvero di consigliarlo per tutti coloro che non hanno idea di come approcciare, o, ancora meglio, per tutti coloro che magari seguono Crypto Monday ed hanno un'idea, però hanno quelle persone, quegli amici, che non entrano in un settore perché la risposta classica è, ma io non ci capisco nulla di queste cose, beh, magari potete aiutarci con il passaparola e far conoscere proprio Coinschool Basic per introdurre quelle persone lì. Vi lascio tutti i riferimenti direttamente in descrizione oppure al sito coinsquare.com lato formazione oppure slash Coinschool Basic. Innanzitutto il fattore più importante è quello dell'inflazione. Inflazione che non solo i grandi economisti, ma anche tanti divulgatori, hanno dato per un fattore non importante. Io, in questo caso, ho esposto la problematica, ormai almeno da un paio di anni, di come la stampa di denaro avrebbe portato queste conseguenze e probabilmente il problema più grande è il fatto che poche persone rischiano di non riuscire più a gestire quello che è un sistema troppo complesso e quindi il fatto di riuscire poi a frenare la crescita dell'inflazione poteva essere un rischio elevatissimo. Questo rischio sembra essere ormai concreto perché nonostante l'innalzamento dei tassi di interesse e la fine del quantitative easing, l'inflazione con il suo relativo CPI non sembra frenare. Infatti, nonostante le attese di un'inflazione all'8.3%, settimana scorsa la realtà ci ha fatto vedere un 8.6%. Questa è la visione macro, ma andiamo a vedere quello che sta succedendo poi questa mattina e il problema che stiamo vedendo questa settimana. C'è un probabile collasso di Celsius. Non è detto che questo accada, però i segnali sono molto negativi. Infatti, dopo una fase di rimbalzo di Bitcoin, dopo la caduta di Terra Luna da 23.800 dollari a 30.000 dollari, praticamente è stato questo il rimbalzo che abbiamo visto nella settimana nera di Terra Luna, adesso arriva una nuova preoccupazione. Bitcoin ha abbandonato la zona vicino ai 30.000 dollari. Qualcuno con la difesa del livello a 25.000 dollari aveva ipotizzato che il peggio era già avvenuto, mentre invece sembrerebbe che stiamo andando ancora più in basso. Probabilmente i Bitcoin che sono stati portati fuori, o per meglio dire i Wrapped BTC che erano in pancia a Celsius e sono stati portati su FTX, cominciano a essere scaricati. Vi spiego meglio cosa sta succedendo. Celsius ha cominciato a muovere dei fondi, ritirandoli da Aave, una delle strutture DeFi più importanti per il lending, e portandoli sull'exchange centralizzato FTX. In molti cominciano a ipotizzare il fallimento di Celsius e a quel punto sarebbe un dramma anche per gli Ethereum in staking tramite Lido su Ethereum 2.0, sulla beacon chain per meglio dire. Questo è un altro aspetto molto molto importante, ma cerchiamo di capire prima cosa è avvenuto. Praticamente sono stati rimossi 247 milioni di dollari in Wrapped BTC da Aave e mandati su FTX. Non sono gli unici perché sono stati mossi anche tanti altri asset, tutti su catena Ethereum. Celsius è anche molto esposta su la beacon chain tramite Lido o Lido con ST Ether e potrebbe esserci il rischio di vendita anche di questi, portando il de-pegging, qui non parliamo di stablecoin, ma parliamo della versione in staking di Ether su beacon chain, che rappresenta gli Ether messi in staking con una loro versione liquida, che già hanno un valore inferiore rispetto agli Ether del 4.4%. Se dovesse vendere Celsius, questo de-pegging, questa differenza di valore, potrebbe ulteriormente aggravarsi. E questa è la preoccupazione che stanno avendo tanti nell'ecosistema Ethereum. Giusto parlando a livello di prezzi, perché poi a livello fondamentale in realtà le notizie non sono male e le vedremo tra un po', e questa è la grande paura che si sta scatenando e che si sta addizionando alla paura macro di un innalzamento dei tassi di interesse, di cui parleremo tra un po'. Celsius ha mandato 9.500 Wrapped PTC, 54.749 Ether, 375.000 FTT, 2.455 Matic e 260.000 Uni, oltre che 2 milioni di Pax Dollar e 300.000 TrueUSD, a FTX. E questa operazione ha fatto preoccupare molti, che hanno iniziato praticamente a prelevare dal sistema di landing centralizzato, quindi da Cefai, portando alla decisione abbastanza preoccupante da parte di Celsius di mettere in pausa tutti i prelievi. Questa è la comunicazione ufficiale. Sono stati messi in pausa i prelievi, gli swap e i trasferimenti tra account. Faranno nuovi aggiornamenti, la giustificazione è quella di proteggere e preservare gli asset per mantenere i loro obblighi verso gli utenti. Quindi la situazione è ovviamente abbastanza critica, la paura sull'ecosistema è tanto, e sicuramente dopo la caduta di un sistema come Terra Luna, che comunque aveva incamerato tantissimi Bitcoin, vedere questa situazione, dove anche Celsius ha nel suo equivalente Wrapped, BTC e Ether un cospicuo posizionamento, fa molta molta paura al settore, e non solo, perché evidentemente si sta anche iniziando a scaricare e il prezzo ne sta risentendo. Quindi questo è quello che sta accadendo, proprio riassumendo il tutto, in questo momento qui. In più abbiamo la preoccupazione più grande di tutte, ma questa è una preoccupazione che non riguarda solamente il mercato cripto, ma in generale riguarda l'economia mondiale, e non sto esagerando. La Federal Open Market Committee, quindi la FOMC della Federal Reserve, prepara il policy meeting, quindi sulle politiche monetarie, la riunione sulle politiche monetarie, che inizia il 15 giugno. E secondo i dati dell'inflazione, quindi 8,6%, dovremo aspettarci un ulteriore innalzamento dei tassi di interesse. Quindi il mondo e i mercati si stanno preparando a un ulteriore declino o discesa di tutti gli asset, dagli asset azionari, dalle azioni, ai titoli in obbligazioni, e soprattutto ai titoli ad alto rischio, asset ad alto rischio, come ad esempio le cripto, perché ricadono in quel settore. Ovviamente qualsiasi tipo di investitore in questo momento prevede un calo generale dei mercati se ha delle liquidità su asset ad alto rischio, tende a rimuovere quella liquidità per rimanere più liquido appunto, per avere più cash, per poi poter ricomprare su ulteriori ribassi. Questa è la mentalità che scatta quando c'è un innalzamento dei tassi di interesse. Per raggiungere un vero bottom, questa è la notizia forse più preoccupante, ma quella più veritiera, veritiera, bisognerebbe aspettare che la Fed o in generale le equities comincino ad avere il loro turning point, il loro cambiamento di trend. Qualcuno potrebbe obiettare, ma come mai, ma Bitcoin non doveva essere un asset decorrelato dal mondo finanziario, quindi proprio l'alternativa? E così è, infatti, Bitcoin comunque sia, se andiamo a fare un zoom out, è un asset decorrelato. Basterebbe vedere quello che è successo da giugno del 2020, che adesso sembra un'eternità fa, ma giugno del 2020 eravamo praticamente solamente a due anni fa. Eccoci qui più o meno, qui in basso. Se dovessi andare a prendere il 15 giugno 2020 e paragonarlo appunto al prezzo corrente, vedremo un più 160% circa rispetto ad oggi. Un livello di prezzo che comunque è in una giornata di ribasso importantissimo, ma negli ultimi due anni questo asset è cresciuto del 160%, ricordo il 2020 essere stato l'anno della pandemia. Quindi questi due anni non sono stati anni positivi. C'è stata una enorme emissione di liquidità e l'emissione di liquidità si riversa su tutti i mercati. Con una stampa di moneta molto molto facile, con easy money, ovviamente tutti i titoli vengono gonfiati e soprattutto i titoli ad alto rischio. Le cripto, data la loro breve e giovane età e la loro alta volatilità, sono considerati titoli ad alto rischio. Per questo motivo molti soldi sono confluiti in questo settore, alimentando questa euforia e questa crescita non sostenibile. Lo abbiamo visto appunto dal Fear and Greed Index e livelli di euforia e avidità al massimo per lungo tempo. Qui eravamo a livelli 90 praticamente. E adesso, quando il rubinetto è stato chiuso e le manopole sono tutte verso il freno, vediamo un ritorno verso il basso. Questo è il motivo per cui non c'è una correlazione verso il mercato azionario, ma ovviamente se andiamo a misurare Bitcoin sul dollaro, dobbiamo vedere quello che succede sul dollaro. Perché altrimenti, se dovessimo misurare Bitcoin a livello di inflazione in Satoshi, Bitcoin continua a fare quello che deve fare e anzi, come ho visto, la Shrait è in continua crescita. Bitcoin continua a minare i suoi 6.25 Bitcoin ogni 10 minuti circa. A un certo punto, e il problema è che non sappiamo quando, le condizioni porteranno comunque a un reversal di questo trend. La crescita dovrà tornare a livello economico e quindi anche la Fed potrà mettere in pausa la crescita dei tassi di interesse. Ma questo potrebbe durare ancora un po' e questo mi fa pensare che il bottom ancora non lo stiamo raggiungendo. Ovviamente non è stato ancora raggiunto. Tra l'altro, in un report di Bloomberg, si fa accenna il fatto che un aumento dello 0,75% sui tassi di interesse potrebbe essere sul tavolo e a quel punto potrebbe portare un ulteriore ribasso sui mercati. In generale, qualsiasi cosa arrivi questa settimana, il 15, sopra i 50 punti base potrebbe mettere in ginocchio i mercati. Tutto ciò si traduce in un rafforzamento del dollaro stesso. Infatti, se dovessimo guardare il dollar index di XY vedremo che ha raggiunto i suoi massimi. È a 105 e dal 2020 in poi, quando questo indice sale, praticamente Bitcoin va a fare una performance negativa. È un indice che si trova in un andamento inverso a quello di Bitcoin. Lo possiamo vedere in modo chiaro anche qui. È tornato ai suoi massimi, quindi il dollaro si sta rafforzando davvero tanto. Il motivo è quello per cui c'è tanta paura sui mercati, appunto, gli investitori preferiscono rimanere liquidi per avere, nonostante l'infrazione sia molto alta, quindi stiano perdendo una percentuale importante annualizzata, sanno anche che non c'è altro rifugio se non l'oro fisico in questo momento qui e quindi preferiscono avere liquidità pronta per eventuali ribassi e approfittare di sconti sull'azionario o su altri asset. Come detto, il Crypto Fiering Grid ci sta facendo vedere questo livello bassissimo. C'è anche un altro indice molto importante che è il Misery Index che ci misura l'inflazione e il livello di disoccupazione. Infatti, nonostante i prezzi salgano, il livello di disoccupazione sta raggiungendo livelli massimi e qui c'è stato lo spike a seguito del lockdown, dei grandi lockdown ma stiamo tornando verso quei livelli e non c'è solo questo. C'è anche il problema che i costi stanno aumentando, l'inflazione aumenta ma gli stipendi e i salari non stanno seguendo lo stesso rate. Quindi il problema è macro e purtroppo devo citare un personaggio che non mi è caro ossia Jamie Dimon che ha praticamente ossia il CEO di JP Morgan, una delle più grandi banche al mondo che ha annunciato un uragano in arrivo. Questo uragano è praticamente lì, lo possiamo vedere e non c'è molto che noi possiamo fare per poterlo schivare. Attenzione, questa cosa non la vediamo oggi, questo uragano non è a vista oggi ma ne parlavo anche io quindi l'ultimo arrivato nell'analisi economica ormai da almeno due anni. Vediamo come si concluderà questo Celsius Exodus e speriamo non faccia appunto la fine di Terra perché potrebbe portare un ribasso non atteso ulteriore al settore intero. In questa situazione di crisi generalizzata Coinbase come altre società stanno bloccando i loro piani di assunzione e questo sta succedendo molte proteste anche e soprattutto negli Stati Uniti. Coinbase è stata presa di mira perché dopo due settimane dall'annuncio di mettere in pausa le nuove assunzioni ha deciso proprio di prolungarlo a tempo indeterminato questo blocco anche perché Coinbase ha perso più del 70% del suo valore essendo una società quotata in borsa in questo anno qui le azioni sono veramente andate in un ribasso mostruoso e a mio modo di vedere è normale essendo un'azienda che debba andare ai ripari questo ovviamente però non è mai visto bene questo è un segnale ovviamente di bear market evidente. Un'ulteriore negatività potrebbe essere portata poi quest'estate da un report che viene atteso che è atteso in agosto sul mining che è stato praticamente richiesto poi dallo stesso presidente Biden quindi vedremo quest'estate cosa succederà su questa tematica e qui è solo un accenno per fare questo reminder mentre siamo in attesa delle date di luglio ricordo il primo luglio c'è la decisione sull'etf spot per B2I e il 6 luglio sull'etf spot grayscale la situazione non è delle migliori c'è stata anche una causa adesso aperta da parte della CFTC contro Gemini per determinati report riguardanti i futures e alcuni derivati proprio dell'exchange centralizzato insomma sembrerebbe proprio prepararsi il terreno per poter avere ulteriori scuse e non accettare un eventuale etf spot neanche in questo momento alcune notizie positive comunque arrivano anche a livello di regolamentazione infatti arriva una proposta di legge da parte della coppia Loomis Gillibrand che sono tra l'altro che sono due senatrici una delle Wyoming e l'altra dello stato di New York che cercano di inquadrare in modo abbastanza approfondito tutto il settore e gli asset crypto qui ci sarebbe da fare proprio un approfondimento la nota più rilevante è quella di accostare la maggior parte degli asset a delle commodities quindi a delle materie prime più che a delle security e questo secondo me è una via abbastanza saggia di affrontare la cosa soprattutto nell'ottica in cui si è capito di cosa si sta parlando qui c'è tutto il report che lascio in descrizione perché questa volta arriva un documento davvero accurato e secondo me ben fatto da alcuni punti di vista e questo è un documento che è stato presentato in senato e di cui la SEC potrà fare poi riferimento anche perché se alcuni asset usciranno dalla categoria security non saranno appunto più materia per la SEC Security Exchange Commission ma per altre tipologie di organi regolamentativi interessante vedere come la Fed la Federal Reserve tramite i suoi dati stia cominciando a mettere in ottica Bitcoin o meglio Satoshi l'ultima unità di misura possibile per Bitcoin in chiave di unità di conto in quanto arriva un grafico in cui si può vedere il costo delle uova misurato appunto in Satoshi e facendo un pochino di zoom out quindi partendo da maggio in questo tweet che riporta Bitcoin Magazine possiamo vedere di come il costo delle uova se misurato in Satoshi in realtà invece di crescere come avviene se misurato in dollari è andato nel tempo a diminuire quindi potrebbe giustificare il discorso di Bitcoin come riserva di valore o comunque come asset da edging contro l'inflazione ed è questo quello a cui ci si riferisce ovviamente se misuriamo Bitcoin sul dollaro e basta e teniamo a mente il dollaro come unità di conto e unità di misura beh tutto cambia ovviamente abbiamo una visione che parte da un modello e soprattutto spesso viene misurato su breve termine basterebbe allungare lo spettro a due anni che non sono poi tanti per vedere quanto Bitcoin invece sia cresciuto anche nel suo controvalore in dollari appunto vedevamo prima in questo momento di ribasso totale del 160% notizia molto importante a livello fondamentale nonostante il prezzo stia facendo vedere comunque un ribasso davvero importante su Ether è quella dell'arrivo della proof of stake su una delle testnet più importanti quella di Robsten infatti è stato effettuato il merge il famoso merge è stato unito la beacon chain la blockchain in cui avviene la convalida delle transazioni tramite proof of stake proprio con le transazioni stesse ossia adesso su Robsten le transazioni sono convalidate in proof of stake è avvenuto mercoledì scorso data infatti attesa quella dell'8 giugno ed è avvenuto con successo quindi è uno step molto molto importante questo è lo step propedeutico per vedere poi il merge in mainnet merge atteso verso agosto si parla anche di eventuali ritardi ulteriori anche perché è stato ritardata la difficulty bomb è stata una delle discussioni più accese anche da parte degli sviluppatori stessi di ethereum c'è una live che potete trovare comunque su youtube io l'ho seguita quasi interamente in cui si discuteva il ritardo per questa difficulty bomb cercherò di ricordare cosa vuol dire in pochissimo tempo anche perché mi sto dilungando molto in questo video la difficulty bomb andrebbe a aumentare tantissimo la difficoltà del mining praticamente impedendo a parecchi miners di poter operare di convalidare transazioni quindi aggiungere nuovi blocchi questo voleva essere introdotto proprio per andare a diminuire l'impatto del mining e dei miners e il passaggio verso il merge il tutto è stato sempre di più ritardato perché si voleva dar modo ai miners di poter rimanere sostenibili e uscire pian piano dal settore con l'arrivo poi con l'arrivo graduale della proof of stake questo segnale a mio modo di vedere potrebbe voler dire due cose questo ulteriore ritardo uno è che si vuole andare dritti verso il merge a quel punto col passaggio alla proof of stake anche in mainnet i miners avrebbero del tutto tagliati fuori e non ci sarebbe neanche bisogno dell'introduzione della difficulty bomb l'altra visione è quella in cui si vuole fare comunque un passaggio ancora più lungo introdurre prima difficulty bomb quindi togliere i miners o comunque lasciare solo pochi quelli più che rimangono profittevoli sarebbero pochi a quel punto però porterebbe anche una grave difficoltà nella gestione poi delle transazioni su ethereum potrebbe arrivare una fase di congestione molto elevata sulla rete prima del passaggio al merge stesso quindi vedremo in generale è stato ritardato di circa due mesi ancora devono studiare per bene quanto sarà poi la data esatta comunque a fine giugno che era comunicato ci sarà un delay ulteriore in teoria con il delay dei due mesi se consideriamo fine giugno potrebbe arrivare direttamente il merge in proof of stake so che in molti non sono ottimisti da questo punto di vista io per natura lo sono e continuo a credere che potrebbe arrivare il merge addirittura prima di settembre vedremo fino a smentite non è detto che non possa avvenire anche perché il test fatto su ropsten sta comunque funzionando è una questione tecnologica non è una questione di previsioni che si può fare a priori bisogna provare e non c'è modo di sbagliare da un altro punto di vista potrei dirvi che non voglio non faccio il tifo per una cosa affrettata se non è ancora tempo per la proof of stake di essere integrata in mainnet è meglio per prendersi tutto il tempo possibile vorrà dire che il bear market durerà di più mi spiace per tutti coloro che sono in difficoltà ma questo mercato ovviamente ci deve preparare a queste cose ed è da tempo che comunque ci si prepara a queste situazioni non è tutto in salita bisogna essere pronti anche a fasi come queste e stringere i denti intanto arriva un'altra buona notizia quella da parte di paypal di abilitare i trasferimenti delle currency digitali in generale al di fuori del loro sistema quindi sono stati abilitati anche i trasferimenti o i prelievi verso wallet non custodial questo è un passaggio importante perché arriva a due anni praticamente dall'introduzione da parte di paypal dell'acquisto e della vendita di cripto in generale ricordando che senza questa tipologia di trasferimento non c'è veramente nessun tipo di innovazione perché se su paypal come avviene su altre piattaforme non ci fosse stata la possibilità di poterli trasferire altrove non stiamo parlando di nessun tipo di innovazione in questi periodi qui come detto la mia ottica rimane quella sul lungo periodo e non è un momento in cui bisogna poi andare a correre ai ripari anzi se non facessi questa mia rubrica del lunedì oggi sarebbe stata una di quelle giornate in cui io praticamente non avrei fatto nulla neanche avrei visto i grafici anzi è meglio non guardarli quello che bisogna predisporsi è un piano e il piano come ho spiegato diverso tempo fa e vi rimando a un video in cui spiegavo che cos'è il DCA il dollar cost average bisogna mantenerlo e bisogna farselo per il lungo periodo uno dei migliori sistemi per mediare il prezzo soprattutto in queste fasi è appunto il DCA DCA che se è iniziato tempo fa va proseguito così da mediare il prezzo altrimenti questi sono tra i periodi migliori per poterli per poterne pianificare uno una delle novità di Crypto.com che comunque continua a essere una dei leader di settore continua a crescere raggiunto 50 milioni di utenti poco tempo fa ha introdotto proprio il recurring buy che è una delle soluzioni ottimali in queste fasi si possono acquistare questa tipologia di asset da BTC a Ether a tutte quelle che leggete in questa schermata ovviamente in queste fasi bisogna selezionare gli asset più soliti non ha senso fare un DCA su MemeCoin ad esempio questo potrei sbilanciarmi nel dire questo però su asset come BTC a partire a BTC questi sono i momenti migliori e questa è probabilmente l'unica strategia che funziona davvero in questo settore essendo un settore altamente volatile e non predecibile a lungo termine sul periodo più lungo vi assicuro che è una strategia vincente questo non vuole essere un consiglio finanziario diretto anche perché non vi sto dicendo di iniziarlo in questo momento ma di approfondire come funziona di creare un piano e se vuole essere un consiglio il consiglio è createvi un piano che vada a considerare il lungo periodo e non la paura e il ribasso di breve termine quindi comprare o vendere in one shot in questi momenti qui potrebbe essere una stupidaggine di cui avere rimpianti poi in futuro per poter fare queste operazioni su Crypto.com si può fare sia in stablecoin che direttamente in fiat e tramite ovviamente la carta stessa qui vi lascio i riferimenti ci sono poi le tabelline in base al tier tra l'altro rimanendo in tematica Crypto.com e Kronos stanno continuando ad investire nel settore questi sono i momenti in cui si costruisce il più di tutti passata la tempesta a ribasso poi c'è una fase solitamente comunque di stabilità e anche di noia per alcuni e sono i momenti migliori invece in cui si sviluppa si costruisce il futuro del settore e poi arriva di nuovamente nuovamente una fase solitamente di euforia eccetera l'euforia viene portata proprio da quello che si è costruito in queste fasi parte un acceleratore da parte di Kronos ossia atto a tutti quegli sviluppatori o quei team chiamiamoli start up che vogliono avviare i loro progetti sono stati messi a disposizione 100 milioni di dollari praticamente si seguono tutte le fasi dalla parte di studio preliminare a quella di seed sia per gli sviluppatori sia per le gas fee ad esempio per poi essere seguiti anche tramite un programma con dei mentori e addirittura poi poter arrivare a investimenti con dei partner di investimento con venture capital quindi queste sono tutte le cose che vengono seguite se si segue e si fa applicazione a un processo di questo tipo a chi è pensato a questa cosa a tutte quelle start up che vogliono costruire il loro progetto in questa fase voglio farvi notare che appunto c'è questa fase di supporto e in certi visto che comunque ci sono passato nella costruzione di un progetto parliamo appunto di metaswap farlo in una fase di mercato con trend rialzista è molto più semplice anche se poi ovviamente è molto più tosta pagare le conseguenze della disillusione in queste fasi qui però bisogna tenere botta e continuare a costruire però è molto più facile ottenere fondi è molto più facile poi con l'entusiasmo anche avviare il tutto in queste fasi invece è molto più difficile un supporto di questo tipo potrebbe essere l'unica soluzione al momento vado verso la fine di questo video c'è stato un rialzo di chain link con link in quanto è stata rilasciata la nuova roadmap sembrerebbe essere pronto il protocollo al lancio dello staking ossia si potranno mettere link in staking per supportare poi diversi oracoli il tutto dovrebbe partire dalla seconda metà del 2022 quindi abbiamo poi tempo di seguire approfondire il discorso intanto c'è un approfondimento anche da Kraken con i loro report che ci fa vedere di come tutti i token legati ai metaversi o ai NFT ma ancora di più proprio al discorso metaversi abbiano avuto il rialzo più importante dell'ultimo periodo nonostante il calo di quest'anno sono ancora in generale sul rialzo di circa il 400% il tutto è stato dovuto ovviamente all'annuncio da parte di Facebook o meta del lancio del loro metaverso il rebranding di Facebook e monete o token come Decentraland Mana o Sand di The Sandbox hanno fatto vedere un Mana un 41% rispetto all'anno scorso The Sandbox e Sand addirittura è a rialzo del 470% nonostante il tutto sia in una fase molto molto negativa poi ci sono token come Axie Infinity che è ancora up del 511% rispetto a un anno fa e il neonato GMT con un 746% da quando è stato lanciato quindi ci sono soluzioni diciamo legati sia al play to earn che al move to earn che hanno avuto un risalto molto molto importante vedremo come terranno ovviamente in questa fase ribassista come detto parleremo di tutto questo in modo più approfondito con un Ask Me Anything proprio mercoledì ore 18.30 questa volta ovviamente da non perdere è sempre da non perdere quello che facciamo su Coin Square alle 18.30 perché comunque abbiamo supportato e tenuto compagnia in ogni fase la fase rialzista e anche la fase ribassista e forse è la fase in cui siamo anche più schillati e più forti perché tendiamo ad analizzare comunque la situazione con mente lucida senza farci prendere troppo dall'emotività ed è quello che bisogna fare in generale qualsiasi cosa vogliamo fare deve essere lontana dalle preoccupazioni dall'euforia dai sentimenti perché è lì che tendiamo poi ad essere condizionati e a sbagliare ci vediamo mercoledì 15 giugno ore 18.30 su Coin Square con me e Filippo per analizzare tutto e per rispondere alle vostre domande quindi segnatevi comunque il promemoria con le notifiche attivate nel particolare sarò live anche mercoledì sempre canale Coin Square e probabilmente in parallelo anche su questo mio stesso canale per una sessione di Ask Me Anything che facciamo costantemente su Metaswap e analizzare la situazione di questo momento sul protocollo sul progetto e rispondere a tutte le domande che sono state raccolte nella chat ufficiale e tutte quelle che arriveranno live inoltre vi ricordo che questa sera ore 21.30 per chi avesse voglia di un po' più di svago su Twitch canale Coin Square TV parleremo di Sorair calcio e NFT questo per distrarci un po' dalla pressione che arriva a livello mercato quindi per chi segue il mondo cripto il mondo calcistico e magari quello degli NFT è la serata perfetta tra l'altro c'è un torneo che abbiamo fatto partire tra tutti coloro che seguono e tutta la community Sorair Italia quindi ci vediamo questa sera a presto Grazie a tutti.